Oggi vedremo come rinnovare un giubbotto di pelle, un giubbotto di pelle nera da uomo, un giubbotto di pelle marrone da donna, ha un po' di disegni dovuti a visuro, ovviamente, sulle spalle, sugli uomiti, nei posti dove si frega di più, ok? Per farlo andremo ad utilizzare della cera, questa è quella che ho acquistato nel negozio di Timberland, ma ci sono anche di altre marche, della cera solida di protezione, eccola qui. Per spalmarla utilizzeremo un calzino arrotolato o una spugnetta molto molto fine. Comincio con l'operazione prendendo un po' di cera e andandola a passare sulla parte usurata del giubbino.